Frenare al meglio è decisivo per guidare in tutta sicurezza, per questo occorre avere i pneumatici giusti. Io scelgo i pneumatici Continental. Il motivo? L'eccellente capacità di frenata in ogni condizione. Ed è un fatto! Le principali case automobilistiche europee hanno scelto Continental come partner di fiducia. Quasi un'auto su tre in Europa esce dalla fabbrica con pneumatici Continental di serie. Un risultato notevole, basato sugli investimenti dell'azienda in ricerca e sviluppo. Ogni pneumatico è un autentico concentrato di tecnologia tedesca d'avanguardia. I suoi prodotti innovativi sono sottoposti a severi test di resistenza e durata. Più di 140.000 pneumatici testati ogni anno su 25 milioni di chilometri. Dal gelo artico al caldo più torrido. Qualità, controllo, eccellenza tecnologica. Guida sicuro con Continental.